Minerale ha portato in dono a Ada Moi, presso il Cenacolo Umanità e Movimento. La guida fisica di questo cenacolo ha spiegato che il minerale è sconosciuto sul nostro pianeta e proviene dalla stella Capella, nome che in latino significa capra, stella alfa del cocchiere, la sesta fra le più brillanti del cielo, distante dalla Terra, 45 anni luce. Domanda Sempre più spesso sui media, sul web, dovunque, si sa di luoghi miracolosi, religiosi, magici, esoterici, di cerchi nel grano, di apparizioni secolari in antichi castelli, di fenomeni visitati da pellegrini, religiosi e laici, che sono oggetto di indagini di esperti, di psicologi, di sociologi, di sensitivi, di tecnici, che con macchinari raffinati ricercano la spiegazione di questo sconosciuto. Perché accade tutto questo? Per smuovere le coscienze. Ma a me tutte queste notizie producono solo una grande confusione. Tanto più grande sarà la tua confusione e tanto più grande sarà la spiegazione, che tu stesso ti darai di questo sconosciuto, che per ora è esterno a te. E qual è questo luogo? Come da molto del vostro tempo, da più fonti vi ripetiamo, è il tuo intimo.